. Serie B, Avellino Venezia apre il quinto turno in cadetteria Insolito Mondaining Team Serie B La sfida di questa sera al Partenio, tra Avellino e Venezia, apre il quinto turno del torneo cadetto, che si completerà domani con la disputa delle restanti dieci gare. . Si affrontano due squadre che hanno iniziato discretamente bene il campionato, si scontreranno, a partire dalle ore 20 e 30, il terzo miglior attacco, quello irpino, contro la difesa meno battuta del torneo, quella arancionero-verde. . La formazione di Filippo Inzaghi è lunica ad aver mantenuto la propria porta inviolata in questo inizio di campionato. Tre pareggi e un successo per la truppa Veneta che ha totalizzato sei punti in quattro gare. . Anche l'Avellino ha gli stessi punti in classifica, seppur siano maturati diversamente, i biancoverdi hanno trionfato nelle gare casalinghe, per poi perdere entrambe le trasferte sin cui affrontate. . I lupi, quindi, vorranno far valere il detto nonché due senza tre dinnanzi al pubblico amico. Qui a Vellino, l'allenatore Walter Novellino non avrà a disposizione, questa sera, su Ager, poiché è squalificato. Al suo posto, molto probabile l'impiego di Cresicche andrà a far coppia con Marchizza al centro della difesa. . Per il resto, non ci dovrebbero essere novità rispetto alla gara giocata venerdì a Cesena. In mezzo al campo, Capitan D'Angelo sarà affiancato da Di Tacchio, con Molina e Bidaui larghi sulle fasce. . Sarà ancora Morosini a supportare l'unica punta Ardemagni, autore sfortunato dell'errore dagli 11 metri al Manuzzi. . Qui Venezia, uno squalificato anche tra le fila dei Lagunari, appiedato dal giudice sportivo Bintivoglio, in Zaghi si servirà delle prestazioni di signori nella zona nevralgica del campo. . Confermato il terzetto difensivo Andelkovic, Modolo e Domizzi, in attacco ha ancora fiducia al tandem composto da Zigoni e Moreo, con Falzerano che partirà come sempre largo a destra, salvo poi affiancare le due punte in fase di spinta. . Sulla carta, resta però il 3-5-2 per Super Pippo, assetto che ha dato parecchio confort al suo Venezia, soprattutto in fase difensiva. Queste le probabili formazioni. . Avellino, 4-4-1-1, Lezzerini, Laverone, Cresic, Marchizza, Falasco, Molina, D'Angelo, Ditacchio, Bidaui, Morosini, Ardemagni. . Venezia, 3-5-2, Audero, Andelkovic, Modolo, Domizzi, Zampano, Falzerano, Signori, Suciu, Del Grosso, Zigoni, Moreo. . .